incredibile, assurdo, fantasmagorico, a tratti preoccupante quello che sta accadendo Milan-Juventus è già iniziata, Milan-Juventus è già iniziata e non di certo nel migliore dei modi da una parte ieri abbiamo registrato le positività di Quadrato, di Alexandro adesso dall'altra, oltre agli infortunati in casa a Milan si aggiungono le positività di Rebic e Krunic che sono due giocatori che in questo momento con le assenze già prefigurate sono ammazzate sono ammazzate qua e qua, qua, qua proprio secca, secca però parliamolo insieme, parliamo di un ipotetico 11 del Milan, parliamo del perché parliamo anche del perché di tutte queste positività ragazzi di nuovo un'escalation, parliamo di tutto ciò prima però vi presento un software di editing video con Filmora 10 puoi sfruttare il motion tracking che ti permette di aggiungere delle simpatiche caricature o qualsiasi altro oggetto che non rimarrà statico, ma si sposterà ad ogni nostro movimento possiamo sfruttare al meglio la funzione d'hacking che ci permette di abbassare più clip contemporaneamente utilissima se vogliamo aggiungere un effetto audio inoltre troviamo tantissimi titoli e possiamo utilizzarne uno facendo finta che abbia segnato Gagliardini eh? bello e perché no, come ogni software di editing che si rispetti ci sono tantissime transizioni se siete alla ricerca... sì, diciamolo chiaramente, se siete alla ricerca di un programmino semplice facile e veloce, Filmora 10 è la soluzione perfetta perché veramente vi permette di editare, di creare contenuti come magari facciamo noi youtubers onestamente, onestamente il più della volta io, io faccio, faccio robe più light ma in alcuni casi come le interviste o quant'altro, Filmora 10 può essere una soluzione molto molto pratica quindi passateci sotto in descrizione trovate il link apposito, potete scaricarlo gratuitamente addirittura e in più ci sono dei pacchetti aggiuntivi a pagamento fatemi sapere... no, non mi dovete far sapere niente passateci sotto c'è il link in descrizione, scusatemi, scusatemi tornando a Milan Juventus oggi giornata importante di calcio, di calcio vero ma è inutile negarlo la partita che un po' tutti attendiamo anche e soprattutto le rivali, lì davanti, lì in alto aspettiamo sta gara e non parte nella maniera migliore dispiace quando si andrà a giocare... partiamo da questo partiamo dallo spettacolo, partiamo da quello dispiace quando si andrà a giocare un big match così importante con tante assenze come poi lo era stato lo stesso derby all'inizio con qualche assenza di troppo e lo ricordo bene dispiace, però già voglio scacciare i mugugni, questa gara è da rinviare ragazzi, purtroppo abbiamo sposato dall'inizio la causa l'abbiamo sposata, cosa sto a dire? cioè, o il campionato... lo sapevamo fin da subito da inizio stagione che questa era un'annata condizionata condizionata dagli sparti vuoti condizionata appunto dalle varie positività che si aggiungono agli infortuni condizionata da tutta questa situazione che purtroppo non dipende non dipende, non è pilotata da noi cioè non possiamo incidere in questa situazione non possiamo in qualche modo cambiare le carte in tavola dobbiamo accettarla e pazienza quindi è inutile tirare fuori i soliti discorsi li capisco anche perché chiunque vorrebbe vedere una sfida con le due squadre al meglio chiunque, chiunque però dobbiamo prendere atto di quella che è la situazione ragazzi, ecco, a conti fatti ho trovato questa grafica che ci mostra le assenze, quelle della Juventus Sandro, Quadrado, Morata che è in dubbio aggiungerei un Dibala febbricitante vado a memoria ma dall'altra parte ragazzi troviamo Sandro Tonali fuori sapete per la squalifica Gabbia, Menasser, Saleme Kers Ibrahimovic, Rebic e Krunic ragazzi l'assenza di Krunic paradossalmente è la più letale è la più letale per il Milan la più letale direte voi eh sì ma Krunic ragazzi non se lo inculava nessuno perdonatemi la parola non lo voleva nessuno ma in questo momento Krunic comunque è uno che conosceva che conosceva il suo ruolo e in qualche modo ti dava un determinato apporto adesso chi ci gioca? Padre Pio chi ci gioca? no come diceva come diceva cosa? o non so chi ci gioca? Pippo Baudo a centrocampo questo è il problema la Juventus sì la Juventus il Milan dovrà porre rimedio qual è un undice ipotetico? questo qua con Calulu ad affiancare che sì ma in molti dicono anche che potrebbe essere adattato Calabria al fianco di Chessy e quindi e quindi il suo posto sarebbe preso da ricoperto da da Loh ma io onestamente Calabria non lo sposterei mai io Calabria non lo sposterei assolutamente mai dal suo ruolo naturale di terzino destro perché sta facendo benissimo in questo momento e ti offre ti offre delle garanzie ti offre delle certezze non io non non lo toccherei onestamente però è ovvio che in qualche modo una pezza devi metterla o metti Calulu che è giovane se vogliamo a tratti inesperto un partito importante per lui in un ruolo che non è il suo e va detto oppure un'altra soluzione che viene a me che viene a me che ho visto poco magari pensata anche di indietreggiare perché no magari Calanoglu io forse e perciò io non sono allenatore ed allenatore Pioli io forse metterei Calanoglu affiancherei ad uno di corse di sostanza come che si affiancherei la qualità di Calanoglu che non so quanto conosca il ruolo ma se già qualche volta ci ha giocato in passato io lo metterei io lo metterei a Calanoglu là lo metto lì così davanti ragazzi magari Castigliega a destro Oghe a sinistra Diaz Diaz fa il trequartista e metti e trovi trovi una una soluzione diciamo in qualche modo in qualche modo parziale ecco è ovvio che qualsiasi scelta si faccia non è quella giusta o comunque quella quella abituale quella quella corretta perché perché una pezza va messa facevo il discorso di Calabria ma anche Cialanoglu ovviamente come ti rende lì da trequartista non potrebbe farlo credo dietro e quindi anche lì il pensiero si ripete però ragazzi alla luce di tutto ciò dispiace dispiace perché volevo vedere una partita dove dove al di fuori del risultato finale poi usciva una sentenza netta oddio qualora il Milan vincesse nonostante veramente tutte queste assenze tutte queste difficoltà poi più risposta concreta di questa credo non ne possano arrivare onestamente però adesso si fa dura si fa dura le partite vanno giocate vediamo cosa succede in campo e vediamo cosa aspettarci ragazzi vediamo un po' vediamo come va niente ragazzi buona stava ancora di una volta buona domenica buon mercoledì di calcio che vinca il migliore e che sia veramente spettacolo pure oggi pomeriggio ci becchiamo dopo la partita dell'Inter come sempre un grande abbraccio da neschi